riprendiamo siamo tutto senti a me mi rientro mi rientravi nella non so perché non ti dice come se c'era tutto il mio aspetta posso perché comunque vedi perciò continuo a dire che sì ma io dove sto scusso io sono sono te perché come se ne sono il pad tu ti stai muovendo io sono muovendo ti ho capito da mi fa no devo cambiare non sei scemo proprio analisi ma non puoi entrare dalla nel mio per nel tuo personaggio quando hai capito quello che dobbiamo fare sapere domenica perché non sono il mio personaggio tu sei un altro personaggio io posso entrare nel tuo vedi quindi io sono il tuo e perché perché comunità gista piccola rosa la cucchia non vedete da solo il quadro anche se sceglie basta che ci fa meno il pad una manena lì una manena lì schifo il pad mi ha fatto dovevamo cercare perché forse lei può chiedere davanti a dire la porta cioè quando l'era appare con lui ma vedi vengono tutte e due personaggi questo fatto è un passaggio proprio enorme come va bene? che candare di andare? come va bene? 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 ma che cosa vuol dire? An amalgamation of spirits Akin to thine own Ensnared by the treacherous cult Of the Absolute Felled in its name They bear great discontentment With their destiny For a mere pittance of coin I might summon the worthiest among them To lend aid to thy undertaking Should thou or any of thy compatriots perish I will cleave soul to body once more An letta An letta A matter of coin 200 Very well This strange light has a lot of power A lot of information To turn out A lot of money To use its name I don't know But there is a lot of power I think I think You have to abuse No, l'ho foccato io adesso di qua, è rimasto di canne, lo so. Oh, lì, come bebe, leggezza, lo so. Quali adesso è testo di tenere? Il bisogno di payer le ben 관�i, concetti. non è vero Grazie. Grazie. No, 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 no. non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla e non è nulla questo trova già di toglia la bella perché la vogliono che mi ha detto che invece questo trova stile e qua invece allora vediamo prima il calore è qui è qui è qui Non so, non so. Non so, non so, non so. Non so. Non, non so. Un'ordione di cammina, ornisce a chi lo indossca per cercare di lanciare le luci danzanti Oh buono, ora lo metto E qui? Ora cosa fa? Allora, oggi è fatto Ora questo è giusto C'è già uno Allora, allora, dove è andato? Ah, dove già non c'è? Ma dove stava? Oh, quel tizio C'è un bollino Eh? Vieni a provare qua Ma c'è quello vicino C'è una persona? C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Allora, questo è un po' Allora, questo è un po' Allora, clic-by-cì C'è un po' C'è un po' Ok, clic-by-cì C'è un po' 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 Sopra? E' qua? Sì No, vicino alla Andiamo a trattare Adesso doveva farlo in questo Zorro E' questo Sopra 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 non c'è un altro giusto dove? sul rio, a Boulders Gate near the mountain pass c'è un'altro giusto E questo è farlo, ok. Invece ho questa arte dose qua adesso. Ok, guarda, 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 guarda! guarda il filo guarda la faccia guarda ma vuoi dire che è un vecchio mostro del diario, non mi ha ricordato che è caro? guarda ma dice l3 è un bambino che piange disperato disperazione aspetta voglio mandare un attimo il link si arriva qualcuno vossa io aspetta C'è chi è che c'è? Ah, forse, ma ovvero quello che successe adesso Ah, non so Ah, non so A shell so thin requires little to crack it The tea sling was clear If there are Githyanki west of here, that must be our objective Purification cannot wait La Cresce prende la Xaethisk It will cleanse us of the Parasite By covenant, I can say no more I am unfamiliar with the... Well, I shall not say culture Custom, perhaps You will educate me on matters of this... Faye, run! Eh, dobbiamo andare... Dov'è? Dov'è? Dobbiamo andare da quello a parlarci di là Sì 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 Dov'è? Se clicchi sopra Ti dice dov'è la... Sì 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 come in and out or out. Ma oggi è proprio asciuttato, pura la roba che abbiamo addosso. Ma oggi è fatto solo una carota. Ma perchè noi non vediamo niente? Abbiamo fatto un giro. Prima di andare a colare un cuore. Noi non vediamo niente. Oh, non è così fattile come quello. Ma io vengo da una linea lunga di donne, con un giro di mano e così cose. Ah-ha! Ti prendi un giro, e ti senti bene il giro, amore. As you down the potion, a comforting warmth spreads through you. Hmm, I swear you're still as peaky looking. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. I promise I've seen worse. Tell her. But if she pulls out a pot of oil, run. What is it, Pick? What's wrong? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you truly. I'm doing a round of applause. I see no sign of a tentacle yet. But that could change in an instant. You need help. Serious help. I've never a potion of lotion here that could do it, but... Yes, I may have something at home. I don't understand. But I'm kind of sure it's true to me to know this. I do not know this. She's always operating in a tentacle. You need help. I need help. What's wrong? Fine. And I'm really impressed with her. come Kelly ci vuole una botta in fronte chiamata externa si è Mi piacerebbe se qualcosa succedesse a te. Tu! Vedi a te combattere a quei bambini! Fai un pollo? Dobbiamo riempire il cuore ora, ma ancora possiamo. Guarda, non è molto, ma potrebbe fare tutto la differenza. L'unico modo che ci faremo fino a Baldur's Gate è riuscire, e riuscire fortemente. Se un gnoll si riuscirà il tuo senso, dovrai bisogno di tutti i forti, credo. a me. questo è semplice ma non potrei mai lasciare Lea l'hanno così irksome se potrebbe essere se solo si capisse C'è una leva che si può usare Ma io ho già avuto un cancello Poi dire allo stesso domenica La Roacan, il più grande wizard in Baldur's Gate Questo cambia tutto Il suo nome è conosciuto molto Non si può usare Non si può usare In termini di potenza e talento Sì, fino ad ora In anni a prossima Voi potrezzare questa incontrazione Lo posso assurare Siamo riusciti in Baldur's Gate Il mio amico Non sei grumpi, Roland Siamo in la città Non sei grumpi Scalare la tua face L'arrivo in una trama Sei un idiota No, 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 no. Non ho sconto questo, scusami. Oh, sta a me vieno già ridotto. Che è? Raffaele, che è? Piacere, sono Raffaele, ha decisamente studiato il tuo servizio Piacere, sono Raffaele, ha decisamente il tuo servizio Con chi sto parlando? Il gatto o il topo? Hai capito quello che stai detto? Eh Sì, ha detto Vedi un attimo, ha detto Vedi un attimo è un attimo Non è tanto L'attimo, è un attimo E' un attimo La mondia L'attimo La città La scorsa Fulgo una volta Il topo battè il piatto E sorriso tanto Poi Calando gli attivi E questo Amore nel comib qui che sono la voce di sfida non è così per dire che il topo ha specializzato direi quello che viene spiegato o quello che stava cercando di spiegare però alla fine il gatto uccide il topo vabbè belle parole tendenza di minacciare non scondo non è la voce di andare ah, è di non è la voce di andare il foc inoltre hiding in a word a silent observer about to break the silence of course what I have to say merita some privacy as well as some more let's call it refinement così la leggiamo per l'indè quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes come oh cazzo ma per todavia oh cazzo ma per l'indè 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 si bo tutto potish non so ma Raffaele ma Raffaele in oh a mere trifle how dear is one soul really a rhetorical question of course but let me venture and answer it's worth very little with a tadpole in your head One skull, two tenants And no solution in sight I could fix it all Like that And what is madness But a denial of reality Still, I have a feeling you'll change your mind Before it's changed for you Try to cure yourself Shop around Beg, borrow, and steal Exhaust every possibility until none are left And when hope has been whittled down To the very marrow of despair That's when you'll come knocking on my door Hope Such a tease I don't know what to say No, it's only gonna talk about We'll find those uh Maybe, we'll find those Whether you know We'll find those The ante Get You should Get Everything I'mata by all means bites the hand that feeds you while you still have teeth all those pretty little symptoms sundering skin dissolving guts they haven't manifested yet have they one might say you're a paragon of luck I'll be there when it runs out mi sono cacchato io stavo esplorando e questo figlio boom e chi si non si non ha accorto niente stanno tutto là guardando dove andiamo? si ma devo andare a fare la cosa zitta io da questa parte ho fatto tutto ho mangiato un po' di bull, carota ho mangiato un po' di bull Io ho due slot di primo livello e due slot di secondo livello 3 attacchi, 2 attacchi diciamo che siamo ancora bene Vabbè vabbè andiamo a parlare con questo e poi vediamo Oh no! Che dove sta arrivando? Ah, qua. T'ai un po'? Quo' je peux te riuscire per me? no 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 che non voglio fare niente Cripsi del blog, si parla con quella siamo rimasti che li accompagnavamo e comunque dobbiamo uscire che dobbiamo andare a cercare a quello quindi tanto vale accompagnarli come c'eravamo dopo però abbiamo parlato con quella che voleva uccidere la bambina e ha detto accompagnateli voi e quell'altra nel frattempo ha detto trovati a quelli da un'altra macchita Ma hai ragione, comunque se andiamo a parte noi, invece se andiamo? Se andiamo a uccidere prima i capi, in coso sted? Sì. 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 Cosa è l'altro? Mi gioia demais per vedere dove sono le stigioni secche, ma lei è avvenuta la期待. Allora, vediamo. Ok. �'è l'altro. Stai prendiamo due tanti dove diventano tutte case. Alg Fami a vedere cosa posso fare, ma notami più che posso fare in due linee. Mi piace. Buono. Vediamoci da bene perché ci hanno via notare. Dai dì. Ah, c'è una respirazione, un giro di mondo. E dove hai fatto rispire? Sei. Non ci sono, non ci sono. Non ci sono. Non ci sono entusi da una cosa, ma non ci sono ancora di tre. È un problema. Non ci sono. Non ci sono delle cose. Non ci sono dei problemi. è usciuto già? ma lo vedi che sto facendo io? sto pigliendo la roba ma lo vedi che sto facendo io? lo vedi che sono ? ma da dove sei uscito tu scusami domenico no domenico c'era una scala dai che la roba è forte è forte ma bene dai ma come la roba è forte ma come la roba è forte non ti lievi a me bordo io lo so che hai toccami e mi metterò i tuoi dimenticare io lo so come la roba è forte 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 non so che abbassi ma tu stai là non ti sei proprio tu stai là sopra domenico io sto qua sopra mi vedi io ti vedo giù vedi il lato mio tu sei uscito dal muro devi sapere domenico dove stavamo prima da qua devi salire e devi salire qua 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 usci dal muro vedi queste cose sali ma qua diceva di uscire domenico tu perché non vedi la mappa tu stai fermo e non te ne vai che stavo aspettando a te vediamo dove dobbiamo andare ottimo qua e per rientrare dove è qua dare la caccia a carla che dice questo? come si fa a capire qual è la missione? guardate invece che stai facendo 50 secondi, quale missione vuoi stare rendendo? stai facendo 50 secondi? qua vedi dare la caccia a karlak, chi è karlak? quadrato, lava della frontiera, abbiamo dedicato il video, un cacciatore dimostrato come la lava della frontiera missione per uscire karlak, quindi qua c'è uno step della missione del personaggio e invece quello che dovevamo fare noi qual è? se dobbiamo seguire l'ultimo, questo invece? accampamento goblin convincere i goblin, cioè comunque noi avremmo venire qua pure pochino, quindi alla fine invece qua fugare da penno cercare le braccia di asilo vabbè allora scusa andiamo prima qua che vecchia? era uscito prima e poi la prima mappa ma io si deve andare a quella ma cosa come se stava qua? due 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 qua è capace, comunque ti devi andare prima qua andiamo prima qua, ma che cos'è messa? eeeh, lo fa te chissà e non so, c'è la Jay ma io vorrei voler vedere la caglia di farlo già ma quello che è la caglia e io non so, non so ma tutto è tutto, se di quanto sono bravo non so, non so è una battaglia non so, non so non so, non so non so, non so è quello non vena è quello non vena è quello non vena, penso a me perchè? forse non posso saltare ma vai a toccare di aspetta, e tu non ti muovere e tu stai allo sarà Jay non so ma dobbiamo giocare insieme ognuno che ha fatto i suoi ma se vuoi giocare? si, ma basta, si, ma vai guarda quando avessi troppo la caglia e non c'è troppo la caglia e non c'è troppo la caglia ma scenderebbe ma comunque è anche la caglia della caglia la caglia dai pure qua si è saltato si se Company è in il 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 è il 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 Stai bene? Stai bene? Ma dove dice il cluster? Ma noi perchè siamo andati di qua? No, non è mai a ca Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Cosa è? Stai bene? Stai bene? Qualcuno ha fatto Stai bene? Deve essere usata la scala per scendere Per andare di nuovo là La scala è quella Cosa è una scala Quattro Questa è l'uncletta. Il mio destino è il mio destino. Ho avuto il mio favore della Queen e ho conquistato ogni città di Hell dov'è comando. la sciecca dove dobbiamo andare questa volta qua la sciecca è la sciecca è proprio una trama tu sei un idiota i hope the goblins aren't smart enough to poison their blades i already told you i don't have it how stupid are you i didn't have it i didn't have it but you know i don't have it we have found these here here instead here we ah ci stava quell'urso se mi sbaglio c'era un urso che dormiva davanti a una giullando il bocchetto del frottiglia fantasia c'è un frottiglio c'è un frottiglio di amico aspetta amico stanno parlando ascolti quando si sono Whereas se non hai avuto ho avuto c'è un frottiglio di amico perché mi sono ormai ma non ho l'atto ma non ho l'atto ma non è perfetto ma non mi ha pensato Sì, non è vero. ti posso dire qual è lo scopo perché che cazzo ne so perché io non voleva è un goblin di base è un goblin ma mettiamo in caso che tu non volevi farla morire devi avere un motivo non è che lo fai perché io non ne cacci la cussiaggia e allora c'è un motivo devi usare una delle due persuasioni certo non puoi intimidire devi spiegarti un po' Tu sei vero. Mi piacerebbe che non ero, mi davvero vero. Scusi! Scusi! Ma perché ti preoccupi se un goblin vive o mati? Allora, sono decisi sulla seconda e la quarta. Allora, sono decisi sulla seconda e la quarta. Non, 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 non la voglio vivere questa. Devo parlare, guardate. Sono comunezze! U�, un uomo! Sì! Allora, fallate dove tr vende. Spesso facile, sì! non è facile ah non ti abbi no 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 portate a prendere no no non ti abbi 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 ii non vorrai di nuovo da qua poi li lasciano quelle però sembra vinto a qua dove sembra vinto a qua eh? eh? e me che di qua dove sta? di nuovo là, giusto? e andiamo qua, vogliamo andare di qua vedi? perché comunque da qua ci esce la missione, vedi? ci riesci di qua, hai visto? il quadrato sulla mappa sta qua aspetta, fermati però, ancora devo uscire ehm non mangio, volevo entrare qualcosa di più e qua non devo andare, tipo ti posso scavalcare che bello, giusto? non 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 Cosa è andato? Cosa è andato? Cosa è andato? Aspetta fammi vedere Sto vedendo una cosa Sto provato Sto provato Sto ucciso Sto ucciso Sto ucciso Sto vedo Questo era un Un colomb Ma potessi sicuramente non abbiamo abbiamo luttato con qualcuno, no? Questo era uno che ha avuto un coltacetto Un coltacetto E c'erano due a cazzo Oche è morto E' un po' di più. non c'è il suggerimento attivo non c'è il ma non ho capito che è successo Cristina mi chiede se avete trovato Galea Sterio grazie a tutti a 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 no a 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 scratch a 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 long day a long day need to rest soon a 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 c'è qualcosa qua domenico vieni c'è una specie di tunnel c'è una specie di tunnel prenditura nella roccia non è che possiamo dare fuoco oppure rompere c'è una veale c'è una veale eh non vale ci posso dire un po'? ci posso dire un po'? Vabbè comunque lo stiamo c'è c'è una scena di una bomba una bomba c'è una bomba qua ci si può arrambicare vai vieni 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 non Aspetta, vediamo al basso perché se no ci sono i goblin qua. Aspetta, ci sono i goblin? C'è qualcuno là? Guarda, fai che è una cosa di un sterto. Anni, come usci. ma c'è l'altra gente però qua che sentivo le voci io non non ce l'ho attivo se lo uccido è pazzo però mi dice saccheggia non mi dice uccidi non lo posso uccidere vabbè lo attacco normale giusto noi dobbiamo andare di qua non c'è una palla non voglio pensare perché il mio occhio è itching non mi piace se faccio nasconde si attacca i nemici c'è qualcuno invece a me è andato il successo però non capito dove devo guardare il fatto di attaccare di nascosto salvare l'ognomo non mi piace se faccio non mi piace se faccio dov'è 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 iscriviti che? che? e tu? e tu? spero che hai un stomac per ix e tu ci gravi ma l'hai detto tu eh come vabbè sai che comunque sono gnomi noi sono globi no colpo perforante grazie ah 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 e l'hochizzo sì l'hochizzo 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 è in Gal unn i c'è un c'è una ucina Sì, non è vero. questo è stato morendo mi conviene fare non è vero, guardiamo il pio avevo visto moren a e 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 come dici tu io che devo fare o la guarisco dopo e non la posso guarire adesso devo aspettare il turno dopo perché l'azione l'ho fatta l'ho aiutata e 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 cosa posso fare con le allora ecco come esco da questa cosa come si fa per cortesia e 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 in the lower city it was speckled with blood my friend nowhere to be found but I still have hope I have reason to believe he's in the underdark hopefully I'll pick up his trail from there I always help my friends on that note I bid thee farewell if we should meet again well we will have met again I'll give it to you I'll give it to you I'll give it to you what do you think? it's not a bad thing it's not a bad thing andiamo all'accampamento vabbè comunque andiamo all'accampamento vabbè vabbè non 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 qui non non fu non e c'era il punto di spiamma di quente wow ce l'ho fatta ma io leggo un piede che non lo dedisci che era successo leggitemi aaa io questo l'ho fatta aaa io se il nostro il nostro un bel oldrò aaa 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 c'è un va la ci ci di nocturna del niente. Ora che hai la verità, non fa una grande fissura. La goddess di segreti. Come spettacolo. Per sempre, Aideide. E tu pensi molto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.